eccoci qui buongiorno 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 e ancora buongiorno salutiamo ringraziamo ovviamente il nostro caro Petros che chiaramente vi ha tenuto compagnia fino a questo istante nel grande mattinando di Radio Potenza Centrale in questo giovedì 7 di aprile 2016 buongiorno come già annunciato ormai praticamente siamo per fare un live al giorno in poche parole e quindi siamo pronti per annunciare anche il prossimo artista che viene qui a Radio Potenza Centrale a salutare i suoi ospiti i suoi fans soprattutto voglio ringraziare per questo l'event coordinator l'amico Nicola Galante che saluto e anche l'amica Maria Camillo che è qui al mio fianco pronta insomma a sentir cantare la sua cantante capito funziona così Nicola buongiorno buongiorno direttore buongiorno a tutti i radioscoltatori di Radio Potenza Centrale Radio Eva Napoletana che siamo qua in filo di fusione e niente anche stamattina abbiamo un'altra grandissima artista una voce stupenda molto calda della mia cara socia e amica Maria Camillo grazie Nicola buongiorno a tutta Radio Potenza Centrale e Radio Eva Napoletana un buongiorno a tutti che ci stanno seguendo ecco buongiorno Mary buongiorno beh insomma ce l'hai la parlata e ce l'hai hai visto si è presentata da sola allora ha detto Nicola sono timida ma non mi sembra che ti assolutamente assolutamente diciamo un pochino ma giusto all'inizio come come si suol dire per rompere il ghiaccio insomma solo per questo allora quest'oggi avremo un'oretta a disposizione quindi fino alle ore 13 13 e 15 diciamo che non abbiamo problemi anche di sforamento di una decina di minuti per poter fare cosa per presentare il lavoro discografico di Mary Bruno per presentare Mary Bruno qui ufficialmente sulle nostre frequenze per i nostri ascoltatori che chiaramente ci ascoltano in FM ma anche per coloro che ci ascoltano dallo streaming sono tantissimi e anche in diretta tv quindi salutate salutate la webcam perché è molto importante insomma perché ce ne sono tantissimi di spettatori parliamo ovviamente del lavoro discografico che porta il titolo lasciatemi amare e quindi Mary insomma volevo innanzitutto chiedere la classica domanda di rito insomma che si fa all'inizio di un'intervista da quanto tempo canti e quindi insomma dici questo raccontaci un po' la tua storia artistica io canto dall'età di sei anni e quest'anno abbiamo deciso diciamo di far uscire questo mio primo lavoro discografico alla Royal Studio di Leo Ferrucci bene e quindi dall'età di sei anni diciamo che nasce proprio come una cosa una passione interna cioè uno insomma io ho un figlio di sette anni ma non c'è si vede che non è che è bravo a cantare come funziona cioè uno si sveglia nasce dalla passione ascoltando le canzoni della grande artista Maria Nazionale ah bene 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 quindi su questo diciamo così è partita la tua carriera artistica esce questo lavoro discografico che si chiama Lasciatemi Amare è che abbiamo avuto modo insomma di far ascoltare i nostri ascoltatori ci sono tanti complimenti che mi fanno anche in privato insomma quando facciamo le trasmissioni e credo che fra i nostri ascoltatori e te si possa creare quel feeling che c'è perché di solito sai c'è sempre qualche artista che è intoccabile, irraggiungibile e invece qua siamo una grande famiglia ci dobbiamo tutti volere bene siamo una grande famiglia e siamo tutti alla mano bene bene allora parlaci anche un po' chiaramente di Maria insomma ti accompagni in questo percorso? sì la mia manager Maria Camillo ecco ti accompagni in questo percorso ti ha aiutato, spronato, consigliato dice questa canzone andrà più di un'altra certo c'è una canzone per esempio che a voi due piace molto e che secondo voi farà successo? alla mia manager piace tantissimo Non vive senza te ah non vive senza te infatti infatti ecco perché stanno sempre insieme perché siamo una cosa unica allora infatti Maria ci tiene tanto per quest'artista io ho avuto modo e il piacere di conoscerla Maria Foggia quando andammo a vedere il concerto di Mauro Nardi che hanno fatto veramente un grande lavoro e io infatti voglio anche complimentarmi con Maria soprattutto e gli altri organizzatori che hanno fatto veramente dei sacrifici soprattutto e ho ascoltato la Mary Bruno e infatti è stata una delle artiste più apprezzate a Foggia ecco voglio anche dire così giusto per una statistica vostra diciamo interna le canzoni più suonate, più ascoltate, più richieste diciamo in radio dal nostro database noi abbiamo i contatori sono Carnalissima, prima in classifica seconda abbiamo il duetto con Leo Ferrucci, Core su Core e poi abbiamo Non vivo senza te non so se la tendenza è anche questa dalle vostre parti sì sì, da tutte le parti più o meno è quella la tendenza però verso Foggia non vivo senza te perfetto sì ma infatti sono molto vicine cioè voglio dire una è passata posso fare una domanda? per esempio dieci volte una undici cioè alla fine sono eh diretto volevo fare una domanda a Mary a te invece il tuo bel brano di questo cd che a te c'hai più nel tuo cuore diciamo qual è? a me quasi tutte vabbè c'è un brano particolare però no? tu mi hai salvata che parla diciamo della mia vita ha capito è autobiografica allora facciamo una cosa io direi per i nostri ascoltatori anche per coloro che non ti conoscono Mary e magari sono ascoltatori distratti oppure nuovi ascoltatori perché comunque le tue canzoni, gli spot passano già da un po' di tempo però per chi ancora non ti ha conosciuto conosciamo quest'artista che appunto ci presenta Lasciatemi amare il nuovo lavoro discografico partendo dall'ascolto eh di un singolo di questo di questo album eh inizierei proprio da tu mi è salvata cioè cercherei di far ascoltare le ascoltiamo anche le altre però cercherei di far ascoltare anche quelle eh che magari hanno ascoltato di meno i nostri ascoltatori va bene e allora tu mi è salvata con Mary Bruno eh la ascoltiamo intanto voglio ricordare i nostri amici che potete inviare anche un messaggio al 349 511 9088 per eh poter parlare con noi e con Mary quindi eh potete scrivere un sms e chiedere qualsiasi cosa noi lo leggeremo in diretta e più tardi insomma fra una ventina di minuti apriremo anche le linee così per farvi salutare l'artista intanto ci ascoltiamo Tume Salvata Tume Salvata Tume Salvata Tume Salvata Non mi aspetta per la mia questa vita un attimo Quasi per caso t'ai incontrato E già crescevano la voglia d'avere Era che la sera mi sono innamorato Perché l'uva s'a cercato, a cercato Tu vuoi tutta strada non mi hai guardato Ma che lo spicchietto l'ha fatta per te È arrivato il giorno che mi ha già salvato E io non so in divano che l'ha già scusato Ma tutti i problemi che l'ha già attraversato L'ha già superato soltanto con te Ma fa morire che il suo caro è il tuo bene Il mio figlio è marato sta morando Forse perché pure ti è contento E così me l'ha fatto capire E che sono cresciuta senza mamme e padre Senza me l'ha fede chi sei separato Tutto bene che aver mancato Su figli è per me Io mi vedevo diversa guardando una femmina Musso campano protettere un massimo e l'uomina Come mi è portato Un riso Uposare la lacrimà Anu m'e vitt S'è sta purit Non mi l'am jurata se passai in faiate era che la sera faccio un'ambulata perché l'ho passato a giocare a giocare dopo tutta strada non mi hai guardato ma che l'ho spichetta l'ha fatto per te poi arriva due giorni che mi hai salvato e io non sto in divan a giocare ma tutte probleme che ci ha attraversato l'ho giù superato soltanto tutte fa morire il suo cuore in dovere un figlio amare da stamora forse perché pure ti è contento così l'ha fatto capire mica son cresciuto senza mamma e pat senza bella fette chi si è separato tutto bene tu mi è salvata con Mary Bruno abbiamo iniziato ad ascoltare appunto i singoli di questo lavoro discografico lasciatemi amare con proprio l'artista qui in diretta e ospite ovviamente qui su Radio Potenza Centrale avremo modo anche di insomma a sentire anche qualche pezzo così live quindi di scoprire le doti canore di quest'artista ricordo che siamo a rete unificate con Radio Eva Napoletana lo voglio dire anche a beneficio di chi ci sta ascoltando dici che sta succedendo c'è una trasmissione qualcosa questa Radio Eva Napoletana Nicola che cos'è che cosa che serve diciamo che è la sorellina di Radio Potenza Centrale dove insomma non c'è pubblicità fuori la musica napoletana quindi viene montata tutti gli spot di questi artisti giovani e big della musica partenopea e insomma c'è musica su 24 su 24 potete ascoltare è una potenza di radio è una potenza di radio siccome Radio Potenza Centrale stiamo pienissimi insomma siamo veramente pieni qua è una cosa incredibile e allora abbiamo aperto questa stazione proprio per la musica partenopea in modo tale che uno che vuole ascoltare solo musica napoletana può ascoltare con la radio e sente solo musica neomelodica bene dove c'è la nostra Meribruno certo con il suo brano soprattutto Carnalissima che sta spopolando Carnalissima sta andando molto 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 bene ecco poi voglio salutare anche Ferdinando non so se ti dice qualcosa questo nome è un nome che conosci Fernando Fernando allora ho sbagliato a scrivere Fernando Fernando beh insomma io credo che la famiglia in questo sia al primo posto in una carriera artistica in un inizio di un di una sfida diciamo così artistica un bacio anche a mio figlio che ci sta guardando ah bene salutiamo tutti gli amici in diretta tv soprattutto soprattutto alla famiglia Turso ah bene salutiamo anche la famiglia Turso poi c'era da salutare anche Giuseppe posso denominarlo Peppone Peppino 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 va bene Giuseppe Ruggero che qui insomma praticamente mi sono fatto i guardi a spalle Nicola se non faccio bene l'intervista non esco dallo studio funziona così va bene allora inviate i vostri messaggi 349 511 90 88 ovviamente li raccoglieremo per poi poterli leggere prenderemo anche qualche telefonata in diretta salutiamo gli amici della diretta tv e insomma siamo proprio al completo e abbiamo modo avremo modo insomma di presentare ancora tutti gli altri singoli dell'album di Mary Bruno Mary parlaci anche di questa collaborazione che hai avuto con Leo Ferrucci per questo brano core su core una grandissima collaborazione per questo brano e lo vado a salutare il grande maestro Leo Ferrucci l'hai conosciuto proprio in questa occasione o già prima in altri eventi? già prima in altri eventi quanto è venuto a Foggia a fare delle serate poi man mano mi piace lì la casa discografica alla Royal Studio e ho deciso di farlo lì bene bene benissimo è un ottima casa discografica comunque e si sente voglio dire si vede e si sente si vede anche del lavoro come vengono impostati i gd graficamente graficamente e tutto ok allora a Mary voglio chiedere anche gli impegni che ci sono prossimi perché so insomma parlavamo qui anche in dietro le quinte che ci sono degli impegni proprio prossimi fra qualche giorno sì il 17 avremo una cena spettacolo ok dove? poi abbiamo una crescima al 16 subito dopo ce ne sono tanti di impegni tantissimi e so che poi a maggio ci saranno anche grandissime novità però non anticipiamo nulla magari in un altro live di maggio grandissime sorprese per maggio questa cena spettacolo avremo un'estate molto calda certo molto calda molto calda ecco questo impegno invece di questa cena spettacolo sarà con altri artisti? ci puoi dire dove insomma così? sì con Nino Doria ok e ci saranno anche altri artisti Nino Dauria Nino Dauria Nino Dauria sì scusami Nino Dauria nostro amico e tanti artisti che ci saranno sempre del genere ok perfetto va bene allora siamo alle 12.25 siamo in diretta a questo punto io direi di ti faccio fare la prova di canto come si suol dire no? quindi alzati vai vicino all'altro microfono proviamo innanzitutto se funziona perché non abbiamo fatto nessun tipo di prova diciamolo che siamo arrivati proprio così a volo come si suol dire a volo benissimo e quindi cosa vogliamo eseguire adesso in versione live diciamo dal vivo? facciamo ascoltare Carnalissima la più sentita perfetto Carnalissima e allora ce la canta la nostra Mary Bruno per chi vuole anche fruire insomma quindi vedere anche quello che sta succedendo possono andare sulla pagina fan ufficiale di Radiopotenza Centrale su Facebook e cliccare guarda il video e chiaramente accedere al canale YouTube dove c'è la diretta di tutto quello che sta succedendo intanto Mary Bruno con Carnalissima prima è stata con testa per nervoso ma asciugava storto ogni mattina tu hai gagnato a strada e su dussina e mi hai fatto il suono colorato hai gagnato senza questa vita mi hai sanato tu, tutto è ferito rinda che il suo corpo sono guarito e mi sono tornata a namurare Carnalissima con te sono diventata carnalissima sono una caramella piena e zucchero e voglio bene a chi mi era antipatico vicino a te carnalissima pure in due ognette ma so carnalissima prima faceva amore senza l'anima tutte vicino sono un governo femmina più femmina ma mi era figlia e me stesso perché tutte chiudono c'è una tazza e caffè so vele i urna bachisava ma tenga l'amorinto gara carnalissima tu rinde i braccio dai me patrisholjere e sei scuagliato sa vita a me beve e tengo a te dinti pensiero beve e vega a te sotto bicchiere parla e senta a te che mi respira solo con ogni pioggia va asciutta carnalissima con te sono diventata carnalissima sono una caramella piena e zucchero e voglio bene a chi mi era antipatico vicino a te carnalissima pure in doliette mo so carnalissima prima faceva amore senza l'anima tutte vicino sono un governo femmina più femmina ma mi era figlia e me stesso perché tutti chiudono c'è una tazza e caffè so vele i urna bachisava ma tenga l'amorinto gara carnalissima carnalissima purin de braccio dai me patrisholjere e sei scuagliato sa vitamini carnalissima purin doliette mo so carnalissima prima faceva amore senza l'anima tutti vicino sono un governo femmina più femmina ma mi era figlia e me stesso perché tutti chiudono c'è una tazza e caffè so vele i urna bachisava ma tenga l'amorinto gara carnalissima tu rinde i braccio dai me patrisholjere e sei scuagliato sa vitamini carnalissima carnalissima con la nostra Mary Bruno complimenti complimenti davvero grazie e ci ha mandato in saturazione il microfono brava Mary brava dal vivo vogliamo ricordare che comunque ha cantato dal vivo non in playback quindi complimenti di cuore veramente brava Mary brava brava grazie grazie bene poi magari faremo sentire proprio un pezzettino ma proprio cinque secondi senza base senza nulla nulla così possiamo far capire insomma che siamo tutto live tutto dal vivo allora ragazzi sta andando tutto alla grande siamo giunti già le dodici e trentuno e il tempo passa passa molto velocemente vorrei però cercare quanto più possibile di ascoltare più canzoni è possibile per presentarli ovviamente ai nostri ascoltatori quindi ricordo ancora una volta il numero della messaggeria 349-511-9088 ma magari più tardi leggeremo i messaggi perché vorrei far ascoltare appunto un po' di questi singoli salutiamo gli amici appunto di questo bar che non so dove si trova ce l'avano detto a Montemilone sì in provincia di Potenza che ci salutavano per quanto riguarda questo live quindi nel bar avranno il volume è a palla e stanno sentendo questo live salutiamo la Giovanna di Castronuovo di Sant'Andrea buongiorno buongiorno anche a te carissima Giovanna salutiamo gli amici di Radio Eva Napoletana e lo diciamo sempre e se ci ascoltano dicono che cosa è questa cosa quindi dobbiamo dirlo più volte e con Mary e ovviamente adesso presentiamo anche un altro singolo che magari per esempio questa mattina alle 10 e 30 è passata ti odio e ti amo anche questa è una canzone dal significato denso ma comunque con una ritmica molto movimentata vero sì sì ecco quindi io vorrei ascoltare proprio questo brano sempre per fare diciamo una giusta assonanza fra le canzoni che si sentono di più e quelle che si sentono di meno quindi ti odio e ti amo la ascoltiamo con grande piacere siamo in diretta live con Mary Bruno e con l'amico Nicola Galante che cosa stai facendo la stai filmando? beh gli ho fatto un po' di foto copertina a Mary anche perché c'è un viso stupendo Mary grazie faccio i complimenti degli occhi veramente favolosi e insomma poi gli ho fatto un piccolo videoclip che poi lo metteremo sulle pagine Facebook vogliamo ricordare le tue pagine Facebook Mary? la mia pagina Facebook è Mary Bruno Mary Bruno Mary Bruno vogliamo ricordare eh no è importante questo Mary Bruno M-E-R-Y-B-U-N-O perché magari qualcuno scrive Mary con la A hai capito? sì con la E Mary Bruno scusarmi anche con tutte le persone che vengono in chat purtroppo non posso rispondere tutti ne siete tantissimi tantissimi questo ti fa onore è una cosa importante e poi vogliamo ricordare anche i contatti artistici per la Basilicata voglio ricordare che possono contattare Nicola Galante il 328 88 18 385 quindi per chi vuole Mary Bruno per comunioni insomma per Crescine Battessi quello che sia insomma possono contattarmi a noi della radio e poi per il resto insomma c'è la signora Maria Camillo che al 328 410 5522 quindi poi se è qualche cosa la mia manager chiamati in radio e diamo i numeri insomma per le zone va bene? io me li sono segnati così poi dopo chiamo i manager e vediamo se posso ospitarla ricordiamo sempre Maria Camillo ricordiamo Maria Camillo insomma per la zona di Foggia in tutta Italia ma poi un saluto pure a Maria glielo facciamo fare perché questa è una radio libera quindi possiamo la vogliamo far salutare sta dietro di testa come una guardia avvicinati salutiamo Maria benvenuta ciao a tutti buongiorno a tutti ciao Mary come vedi ti sto guardando tramite il vetro ciao Nicola ciao Marisi un abbraccio e vi raccomando in gamba e come hai detto Boganzi te Radio Potenza Radio che è una potenza centrale è una potenza di radio è una potenza di radio certo e per contatti per Mary Bruno vi raccomando Maria Camillo al numero 328 4105522 e qui per Potenza e tutto il resto c'è sempre Nicola Galante e Antonio Postiglione grazie a tutti ciao grazie grazie ciao Maria beh però insomma è una bella parlantina la metterei adesso facciamo una cosa è radiofonica dopo la canzone ti odio e ti amo andiamo in pubblicità perché dobbiamo fare pure una pausa a caffè non ho avuto neanche il tempo di offrirvi un caffè qualcosa e dopo ritorna conduce Maria io mi metto ad ascoltare perché la vedo molto spiglia è attiva e vedi come presentava quella sera a Foggia incredibile ma si vede già e poi ho saputo anche una cosa bella so che a tempo addietro era una cantante Maria so che era anche molto brava Maria ah ho capito beh se mi date tutti questi input io qui non finiamo più arriviamo alle 14 Maria è piccola piccola ma è tutto da scoprire quindi possiamo sentire qualcosa anche da lei non ho capito no 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 è abbandonato a piacere di Maria ah ok va bene allora intanto ci ascoltiamo ti odio e ti amo pausa pubblicitaria quindi pausa caffè e poi ritorniamo per la seconda parte di questo live a farà pelle di questo live ti odio e poi ti amo ma come è strano la ciretta carezza ti odio e poi ti amo ti odio e poi ti amo inverno e parabris ti odio e poi ti odio e poi ti amo mi sembra mi sembra mi sembra più felice mi sembra più felice e poi ti odio e poi ti odio e poi ti amo mi sembra più felice ti odio e poi ti amo Siamo alta mia, ti odio e poi ti amo Inverno e parabriso, se tu c'essi salato Tu che sessi per me No, non può essere, ancora mi appartiene Tu sei tutta la vita mia, l'urto vuol treno da me Io ti odio e poi ti amo, se non c'essi salato Io non può essere, ancora mi appartiene Tu sei tutta la vita mia, l'urto vuol treno da me Io ti odio e poi ti amo, se non c'essi salato Io ti odio e poi ti amo Potenza Centrale è una potenza di radio Io Bimbo è la più grande catena di negozi per mamme in attesa e bimbi in crescita Specializzati nella prima infanzia, dispone di tutte le migliori marche Carrozzine, passeggini, trio, box, girelli, seggiolini pappa, poltroncine auto, lettini, giocattoli di tutte le marche Alimentazione per bimbi, pannolini e igiene, abbigliamento intimo da 0 a 14 anni Articoli per la scuola, tra i vari servizi, lista nascita, buono regalo, carta fideliti Vi invitiamo a visitare il negozio dove troverete nei vari reparti moltissime offerte Io Bimbo si trova a Rioniero in Vulture, in via Scalpellini, zona artigianale Info 0972 72 38 30 Meglio un prezzo leggero o vivere un sogno? Meglio vivere un sogno a un prezzo leggero, con GS Arredamenti Prima di acquistare, passa da GS Arredamenti di Straziuso Raffaele a Tito Scalo Presso il centro commerciale Iris Dove troverai il centro cucine progettate per voi, su misura, a prezzi di fabbrica, senza intermediazione 0971 48 52 80 Centro cucine Febal Arredamento completo con camera da letto, cucina, soggiorno, tavolo e sedie a 5.900 euro Se non siete single per scelta e stanchi di cercare in vano l'anima gemella Affidatevi all'Agenzia Matrimoniale Roberta Con serietà, discrezione e riservatezza vi aiuterà ad incontrare e conoscere una persona per la vita Agenzia Matrimoniale Roberta Per non sentirvi più soli Si riceve giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 20 Venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20 In Contrada Maglianello ad Atena Lucana Scalo Salerno Info 320 69 89 327 Seguiteci su Facebook Ci sono luoghi che sembrano creati apposta per esaltare un grande evento I Giardini della Corte Con la professionalità impeccabile dell'indiscusso chef Carmelo Ricciardi e il suo grande staff Renderanno il vostro ricevimento magicamente raffinato I Giardini della Corte Strada Statale 99 Matera Altamura Uscita Santeramo 0835 26 80 86 www.igiardinidelacorte.it Vieni a scoprire le novità 2016-2017 Auto Noleggio Hertz Scegli tra la vasta gamma di auto quella più adatta alle tue esigenze E prenota subito Hertz propone da sempre eccezionali tariffe ed offerte speciali Per il noleggio di auto e furgoni Per info contatta l'Agenzia di Potenza Allo 0971 47 32 58 O visita il sito Hertz.it Hertz, un mondo di novità Ottava edizione della Hi-Fi Tuning Show Siete tutti invitati alla finale regionale del Sud Italia il 10 aprile 2016 qui al Centro Commerciale Arcobaleno Non mancate Centro Commerciale Arcobaleno Uscita Melfi Nord Se vuoi diventare estetista o parrucchiera Iscriviti da Professional Academy Da Professional Academy puoi seguire corsi di parrucchiera Ricostruzione, make-up, estetista e molto altro Con docenti altamente qualificati Professional Academy di nuova gestione E a Melfi Per info 327 23 66 735 Dopo un'assenza di oltre due anni Torna a grande richiesta per la gioia dei suoi fan Nunzio Desiderio Il più bello dei neomelodici Con il suo nuovo lavoro discografico Attimi di passione Un album che raccoglie diverse storie Raccontate con grande emozione Da Nunzio Desiderio L'amore verso il figlio Il ricordo di un giorno importante E tanti altri fantastici brani Per le tue feste Chiama Nunzio Desiderio Al 392 99 39 697 Oppure su Facebook Alla voce Nunzio Desiderio 4 392 99 39 697 Desiderio è tornato Io Bimbo è la più grande catena di negozi Per mamme in attesa e bimbi in crescita Specializzati nella prima infanzia Dispone di tutte le migliori marche Carrozzine, passeggini, trio, box, girelli Seggiolini pappa, poltroncine auto Lettini, giocattoli di tutte le marche Alimentazione per bimbi Pannolini e igiene Abbigliamento intimo da 0 a 14 anni Articoli per la scuola Tra i vari servizi Lista nascita Buono regalo Carta fideliti Vi invitiamo a visitare il negozio Dove troverete nei vari reparti Moltissime offerte Io Bimbo si trova a Rioniero in Vulture In via Scalpellini Zona artigianale Info 0972 72 38 30 Amore, sei un sogno non svegliarmi Cara non è un sogno È l'agriturismo urbanito Un incantevole casale in stile rustico Immerso nel parco nazionale del Cilento Piatti della tradizione campana Preparati solo con ingredienti di qualità Di produzione propria All'agriturismo urbanito Anche possibilità di pernottamento Nelle nuove camere climatizzate Caseificio aziendale Con lavorazione artigianale di latte Delle proprie vacche Capre e pecore Formaggi dal gusto raro inconfondibile Agriturismo urbanito San Rufo Salerno Telefono 0975 39 53 48 Palumbo Motors È la nuova concessionaria valta Per il sud Italia Inoltre Mieti 3 Velaver Day Fend Trattori Fend E attrezzature Kun Con vasta gamma usato Di tutte le marche Vasto assortimento di ricambi originali Assistenza tecnica in campo E a domicilio A prezzi convenienti Palumbo Motors A Lucera Provincia di Foggia Amatera Zona Pipe 2 Per info 08 81 52 99 81 O visita il sito www.palumbo-motors.it Radio Potenza Centrale È una potenza di radio Mieti 3 Velaver Day Fend Mi sentita emozionata Mi ero proprio innamorata Ma se veci una parola Trammava per te Mi ricorda ancora Mi ricorda ancora Mi ha sbattito ancora E volete a te purì Io vi faccio in un'altra parola Mi ricorda ancora di un'altra parola Mi è un'altra parola Mi è un'altra parola Mi è un'altra parola Manulietta, spugliati e te. Corresto, amore, vivi questa vita, come capasso da me da te. Rambano base, rambano ogni cosa, stanotte vogliono figli con te. Corresto, amore, passione eterna, rida all'inferno, stessi e senza te. Dammi respira, dammi pensiera, tutte minuti cadieno a me. Come il carnalo, stammone, nessuno vuole un essenzuale così. Tu hai fatto gli anni, romane, cammini, dobbene, si stocco con te. Corresto, amore, vivi questa vita, come capasso da me da te. Ma oggi la vita, che bella vita, si stai con me. Basta che tu vedi, che basta che tu pensi, caso solo rinda a me. Siamo una persona, l'anima rimane, siamo forse questa realtà. Siamo insieme per cent'anni, siamo luce, capo a me. Siamo insieme per cent'anni. 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 Che sono insieme per cent'anni, come il carnalo, stammone, nessuno vuole un essenzuale così. Tu hai fatto gli anni romano, cammino in tuffano, si sto con te Core e Stucor, terra e stupione, casta campagna e crescendo con te Guardi la vita, che bella vita, si sto con te Core e Stucor con Mary Bruno e Leo Ferrucci, un duetto, ovviamente stiamo presentando l'intero album Lasciatemi amare qui su Radio Potenza Centrale e siamo ovviamente proprio con l'artista, con Mary Arri, buongiorno Mary Buongiorno Siamo nella seconda parte e abbiamo il piacere di presentare, ecco abbiamo fatto un cambio, diciamo così Un cambio di microfono e di postazione, quindi benvenuta ancora una volta anche alla nostra amica Maria Camillo Grazie, grazie Antonio e grazie a voi di Radio Potenza Centrale che avete voluto fortemente qui al Centrale a Mary Bruno in live Grazie E cosa dirvi? Dirvi che semplicemente che Mary Bruno in questo periodo sta andando fortissimo Con il suo nuovo lavoro discografico, Lasciatemi amare Avrà degli ottimi impegni ad aprile, come anche a maggio, grande sorprese, grande novità Ad aprile ad esempio abbiamo 16, abbiamo una cresima a Foce Varano con Salvatore Felice, un bambino Chiamiamolo bambino ma è già un ragazzotto, 17 anni 16 aprile, poi dopodiché il giorno dopo il 17 saremo a Rignano Garganico a un pranzo spettacolo Dove canterà anche l'artista Nino D'Auria e con altre voci partenopee e parteciperà anche Mary Bruno che hanno cercato fortemente Al 18 avremo l'impegno a Taranto in TV, dopodiché andremo il 28 a Napoli, anche in TV andremo con Mary Bruno E a maggio ci saranno le grosse sorprese per tutti quanti, voglio ringraziare Potenza, voglio ringraziare Sansevero e Foggia Tutta la cittadinanza di Foggia Anche da parte mia, tanti saluti da Sansevero, Foggia e tutte le persone che ci conoscono Esatto, grazie a tutti coloro che richiederanno Mary Bruno, sempre al numero 328-410-5522 Vi risponderò io direttamente la sua manager, Maria Camillo, per qualsiasi evento, comunione, battesimi, matrimonio, qualsiasi evento, piazze, quello che volete Mary Bruno sarà a vostra disposizione Ecco, intanto voglio salutare anche l'amico Francesco Di Melfi, detto cinese, che ci dice, ci manda il buongiorno e ci manda anche una foto Buongiorno Francesco Buongiorno Francesco Un attestato di ascolto e di visione Un abbraccio Poi è ancora brava, bravissima, eccezionale, da Rocco, da Tiera, un saluto anche a Nicola Un bacione anche a Rocco Un bacione fortemente Grazie del messaggio Molto positivo questo messaggio Buongiorno, i bacioni da Anna da Zurigo Facciamo un saluto anche agli amici che ci svolgono dall'estero Ciao Anna Saluto tutto Zurigo E tutte le persone che ci stanno ascoltando Ecco, poi volevo salutare Flora che voleva dedicare una canzone al marito Ottavio che ci ascolta sempre E quindi magari poi vediamo se eventualmente adesso La prossima l'andiamo a dedicare Dobbiamo appunto presentare Non vivo senza te live Quindi Certamente Penso che ci sta, visto che Non vivo senza te immagino che è una canzone d'amore Anche un brano, sì sì, anche un brano alla quale io ci tengo tantissimo E l'andiamo a dedicare anche a Maria Camillo Sì, io ci tengo tantissimo perché è una bellissima canzone, un bellissimo testo E a Giuseppe Ruggero Sì, infatti lo vorrevo dedicare anche a mio marito Giuseppe e a Fernando, tuo marito Grazie È giusto che anche i mariti partecipano È vero, è vero Va benissimo Bene, allora ci stiamo preparando Puoi raggiungere la postazione del canto Come si suol dire, sembra che siamo a The Voice of Italy o qualcosa del genere Allora, Non vivo senza te Altro grande successo in rotazione qui su Radio Potenza Centrale Ma anche sulla sorellina Radio Eva Napoletana Visto che ci stanno ascoltando anche da lì Salutiamo ancora gli amici che ci ascoltano dallo streaming in tutto il mondo Quindi soprattutto dall'estero, gli emigranti Certamente, sono tanti Ecco, tutti gli innamorati anche, no? Esatto È importante Quindi per tutti gli innamorati, Non vivo senza te, live con Mary Bruno Vai che si parte Grazie Rispettare Ma vuoi capire, non vivo senza te Non puoi fermare di gara Quando si vanno ancora Non morire, ha già bisogno di te Per chi va bene o vero Che vado non succede È tanto nascuto È tanto nascuto È tanto nascuto Intossi d'lacrime perché Si voglio i sogli Ossà che cazzo un po' se metto Ma va bene Ma va bene Ma va bene Però fai il fin di non soffri Che da partena Ossà pagassai pu' morir Un bacio a tutti Un bacio a tutti Tu sei stata brava e l'hai saputa fa' Come la natura sa' imbarra e città' Tutto i viti ti hai saputa fa' Si marito e amante Ma con un rimorso non mi pu' lasciar Si rindo il cuore e mi hai scusato già Non sono voglia che sa' mo' straccià' Ma può capire Non vive senza te Non può fermare due gara Quando si vanno ancora Ma non morire C'è bisogno di te Occhi va bene o vero Due vado non succede È tanto nascuto Intossi d'lacrime perché Si voglio i sogli Occhi va bene o vero Occhi va bene o vero E non pu' lasciare Ma non pu' lasciare Noi pu' lasciare Ma non pu' lasciare Per chi va bene o vero, che vado non succede E t'ha nascuto, rindossi il lagrima perché si vuoi che so Ho fatto che sono più se me e tu me va bene Però fai finta e non soffri chi ti appartiene Ho sapato che sai può morire per tutti voi Non viva senza te, eh? Non viva senza te Bellissima, bellissima, complimenti, vorrei fare una domanda a Bruciapelo anche a Maria Ma dove l'hai trovata, dove l'hai trovata? Dirti la verità è stata lei che ha trovato me Ah, ho capito, bene Bene, complimenti davvero, insomma stiamo facendo sentire anche qualcosa dal vivo Perché è giusto che sia così per testare, sondare la voce E soprattutto per farci dare un giudizio dei nostri radioascoltatori Che sono sempre quelli che comandano tutto E salutiamo anche un'amica che sta molto vicino a noi Lucia ci chiama da Potenza Ci ha mandato un messaggio da Potenza E dice da Via Parigi, qui giù, tu sai che qui sono tutte le capitali, no? Via Madrid, via Parigi, via Lisbona, via... Ve le siete fatte tutte stamattina Un abbraccio Lucia, fortemente Un abbraccio fortemente anche da Mary Bruno Bene, salutiamo quindi l'amica Lucia Salutiamo anche Antonietta che dice Bravissima Maria, un salutone Ciao Antonietta Ciao Antonietta E quindi la salutiamo Siamo giunti quasi alle tredici Noi ovviamente vi porteremo all'ora di pranzo Parlando ancora di Mary Bruno E parlando anche delle sue canzoni Delle sue esperienze Della sua carriera discografica e quant'altro Lasciatemi amare il nome appunto del lavoro discografico Volevo chiedere a Maria anche per la distribuzione Cioè se uno volesse un cd come si fa? Certo, basta contattarmi La mia manager Maria Camillo Certo, basta contattarmi Alla quale io personalmente invierò il lavoro discografico A chi me lo richiede Non ci sono problemi Ricordo Tramite posta da Sansevero, Foggia, in Sicilia, in America, in tutto il mondo e tutta l'Italia Ricordo potete contattare Maria Camillo 328 410 5522 Bene, poi ricordiamo anche il contatto Facebook Mary Bruno Sì, Mary volevo dire, scusami Antonio se ti interrompo Volevo dire che su Facebook appunto e anche su tutti i social network Mary Bruno ha una pagina personale alla quale si può entrare facilmente Con la pagina Maria Camillo Manager Ci sono tutti gli nuovi aggiornamenti di Mary Bruno Sia i giorni, le date fissate per gli appuntamenti, dove si troverà, in che punto si troverà E se vogliono ascoltare i loro brani, cioè i brani di Mary Bruno Ok, allora noi abbiamo proprio il notiziario, due minuti proprio giusto per il notiziario locale Rientriamo con il gran finale perché insomma dobbiamo ascoltare Ci sono rimaste da ascoltare proprio tre canzoni per completare l'intero album Io mi sento di dire che ce le ascoltiamo tutte Così i nostri ascoltatori hanno modo di poter fruire E quindi faremo un leggero ritardo ma penso che non ci siano problemi Non ci sono nessun tipo di problema Notiziario locale a fra poco Ben trovati da Maria Fedota su Radio Potenza Centrale Notizie Inchiesta a petrolio, un disastro annunciato? Si sta cercando, parlo a livello di Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Vertici Di spostare l'attenzione su questioni che sono molto molto marginali Tipo quella delle dimissioni della Ministro Guidi In realtà noi dobbiamo entrare nel merito di quello che è successo fino ad oggi E per entrare nel merito di quello che è successo fino ad oggi Leggendo le carte del Procuratore Nazionale Antimafia Si capisce che quanto veniva detto pure da questa radio Corrispondeva tutto al vero Non è possibile che si ignori completamente l'aspetto Per esempio, a parte gli incidenti che pure ci sono stati Sui pozzi, su Centrooli, sia sull'Eni di Vigiano Quindi sul permesso Valdagri, sia su quello di Corletto Si voglia ignorare completamente il fatto che le istituzioni preposte al controllo Non hanno controllato un bel niente E hanno consentito alle compagnie petrolifere di smaltire rifiuti pericolosi Pericolosi come non pericolosi Facendo con questo un avvelenamento di terra, falda, acqua, tutto Questo è quanto ha dichiarato il Tenente Giuseppe Di Bello ai microfoni della nostra emittente Nella trasmissione condotta da Fabio Amendolara I sindaci dei comuni della Valdagri hanno annunciato che si costituiranno parte civile Nell'eventuale processo che scaturirà dall'inchiesta su un presunto traffico di rifiuti petroliferi pericolosi Inoltre hanno anche chiesto che l'ARPA bestituisca una struttura operativa di monitoraggio Che operi giorno e notte nei pressi dell'impianto Eni L'altra inchiesta invece riguarda i subappalti della Total a Tempa Rossa Con epicentro a Corletto per Ticara L'ex sindaco vicino agli arresti domiciliari Ieri si è recata in tribunale per l'interrogatorio di garanzia Dove si è avvalsa della facoltà di non rispondere Rilasciando delle dichiarazioni spontanee Oggi invece l'inchiesta si sposta soprattutto su un interesse nazionale E' attesa nel pomeriggio a Potenza l'ex ministro Guidi Che sarà ascoltata come persona informata dei fatti Corecom Basilicata, ballarò segnalata ad Agicom Poi abbiamo intenzione di convocare il Corecom di Basilicata In una seduta d'urgenza Capitire e deliberare tutte le azioni qui donne Per segnalare quanto ha quaduto all'Agicom e alla Commissione di Vigilanza Rai Affinché questi ultimi organismi possano porre in essere tutte quelle le azioni Qualche appunto a un'eventuale rettifica e i provvedimenti di donne La situazione è un tremoto grave e quindi ci siamo sentiti in dovere Con l'organismo istituzionale deputato a monitorare questo compasso Ci siamo sentiti in dovere di intervenire e di intervenire subito Io credo che la Lucania ne richiede n'altro Si è stata un'immagine sbagliata, evidente e tesonante della Basilicata Io penso che la Basilicata e i Lucani siamo, sono, ben astracosa Così Morena Rapolla, componente del Corecom, insieme a Corraro e La Guardia Hanno deciso di intervenire in seguito alle dichiarazioni del giornalista Marcello Sorgi Nel corso del programma dove ha descritto la Basilicata a terra di desolazione Numerosi cittadini indignati che hanno creato una vera e propria protesta sui social network Potenza, la città si confronta sul Palazzo del Rico Enzo Fierro, presidente del movimento civico We Love Potenza Ci parla dell'iniziativa che vede coinvolto uno dei palazzi storici della città Domani alle 17.30 aspettiamo tutti al ridotto del teatro stabile Perché abbiamo messo su una interessante, costruttiva, iniziativa Dedicata alla definizione prossima di Palazzo di Largo del Rico Un palazzo storico molto importante Noi abbiamo fatto come nostre possibilità delle proposte alla civica amministrazione Vogliamo ovviamente che su questo possa aprirsi un dibattito democratico e partecipato Perché riteniamo che in questo momento le idee sono utili ad una città E soprattutto a ricostruire un tessuto collettivo, costolare di partecipazione democratica vera Lauria, arrestato ladro E finito agli arresti domiciliari un 45enne E definito l'autore di una serie di rapini a signore anziane L'uomo pedinava le donne del posto Che dopo aver prelevato denaro al banco Mat venivano scippate Nell'ultima rapina la vittima, strattonata Era finita a terra, riportando delle ferite E tutto, l'informazione di Radiopotenza Centrale Vi aspetta tra meno di due ore Nella prossima edizione del giornale radio Radiopotenza Centrale Notizie Mary Bruno canta l'amore Lasciatemi amare Il suo nuovo lavoro discografico Carnalissima Carnalissima Purindo gli etmoso Carnalissima Core Sto Core Duetto con Leo Ferrucci Tume Salvata Non vive senza te Da oggi puoi richiedere il cd e chiamarla alla tua festa Info contatti Maria Camillo 328 410 55 22 Mary Bruno Notte Mascidi da notte E quattro mattina puoi insieme a me Faccio parchi giunto scur Una furia d'amore Te vena perché Mi aria non tiene dai limiti Ti amo Pullano Mani Parchi giunto scur poi si vedrà quando mi cucchi e capi la settimana sta bella e respiri di me tu mi fai sentire unica, con te vicino sto in estasi so che un coppio e nuvole si ma stregna con te e a base se può raggiungere senza cercare l'impossibile so un cabello e femmina se faccia amore con te ozza che bella ventut non sota numurà content e ci amant doce si sta da chiudoci santeva stavoce su nome che amant che diamo pe strade e pe piccola mi ami con sole e con chiapana ci ho fatto un uriete cartone nella vecchia stazione poi si avandona ma è bello fare l'amore tra me arte ma in delirio sticole si girca a me noi siamo venuti prigionieri morim per piacere felice ci avevi è bello fare l'amore senza avanza dimana pot succedere poi si vedrà quando mi cucchi e capi la settimana sta bella e respiri di me tu me fai senter unica con te vicino sto in ecstasi so che un coper e nuvolà si ma stregna con te e a base se può raggiungere senza cercare l'impossibile so che un coper e femmina si faccia amore con te bellissima anche questa è bello fare l'amore con Mary che qui nei nostri studi beh insomma un album davvero completo certo completo di tutto tutti i tipi tutti i generi allora i nostri amici fuori stanno discutendo animatamente si sentono anche in sottofondo va bene siamo giunti alle 13.10 siamo un po' in ritardo però volevo fare una cosa una prova proprio libero il telefono per un minuto 0971 458 46 se qualcuno vuole chiamare e appunto dire qualcosa alla nostra Mary salutiamo anche Enza che ci ha messo l'ok un abbraccio quindi vuol dire che è a posto la situazione ok rispondiamo rispondiamo pronto? si pronto buongiorno buon pranzo a chi già ha i piedi sotto il tavolo buongiorno come ti chiami? io sono Franco Radio Rimorchio Franco Radio Rimorchio buongiorno ciao Franco ciao Franco e Mary dimmi tutto benvenuta su Radio Potenza Centrale ma ce n'è voluto di venire su questa radio è vero è una potenza di radio è una radio molto importante grazie vero verissimo e non va trascurata è vero è vero e poi i radioascoltatori aspettano le persone per bene grazie certo grazie beh allora grazie Franco grazie a voi tutti buon pranzo e complimenti per le tue canzoni che vi ho ascoltate attentamente grazie Franco un abbraccio grazie un abbraccio per tutta la tua famiglia e naturalmente e dai in bocca al lupo via crepi il lupo in modo che possa tu emergere e andare avanti sempre senza difficoltà e ricordiamo ricordiamo Franco anche da dove ci chiami eh certamente io sono a Cunza della Campania provincia di Avellino Alfa Victor ah salutiamo tutti le persone di Avellino salutiamo tutta la zona qua c'è ancora il sole bellissimo grazie grazie Franco un abbraccio Franco ciao Franco ciao Franco un abbraccio un abbraccio ok allora abbiamo sentito questa telefonata in diretta ci voleva insomma almeno una testimonianza per spezzare un po' il ghiaccio anche per fare la testimonianza che siamo eh presenti certo certo su Radio Potenza Centrale una potenza di radio e infatti noi siamo quasi in conclusione volevo far sentire se gentilmente mi raggiungi il microfono un pezzettino di Portem Coutet e così giusto per i nostri ascoltatori a cappella come si suol dire e Portem Coutet e Mary Bruno portami con te rindo bene rindo male ma se che ti fai vedere poi non vivere con l'ansia quando ti allontani a me passo per passo da già sta vicino mi fai la strada sempre a tuo cammino facciamo stare con te tu mi erai donata vita ma sei più importante a me faccio l'atto contro la morte quando non sono insieme a te perché per me sono giorni che sono nata perché sono prima innamorata benissimo insomma non c'è assolutamente nulla da dire ci voleva ci voleva certo certo Antone questo pezzettino cioè dal live già si vede si nota anche se c'era differenza o meno non c'è nessuna differenza tra il cd il lavoro discografico e la voce del vivo dal live Mary Bruno è sempre Mary Bruno senza togliere nulla le altre persone e altri artisti sicuramente anche perché poi nello studio insomma le cose vengono modificate modificate sicuramente invece in questo caso non c'è stato bisogno allora noi siamo in conclusione ringraziamo tutti i nostri ascoltatori che ci hanno visto ci avviciniamo all'ora di pranzo quindi chiaramente adesso un abbraccio a tutti ecco Mary ci fai i suoi saluti finali però voglio ricordare anche i contatti e quant'altro certo certo io volevo salutare tutto lo staff di Radio Potenza Centrale Antonio Possiglione e il nostro caro amico Nicola Galante è proprio davvero galante è proprio galante e ricordare appunto che Mary Bruno è qui su Radio Potenza Centrale è una cosa che non abbiamo detto sia per gli amici di Radio Potenza Centrale che di Radio Eva Napoletana che ci stanno ascoltando le canzoni di Mary Bruno sono già presenti da un po' di tempo nel nostro database possono essere richieste così come sono state ascoltate e quindi anche da oggi pomeriggio da domani potete richiederle tutti i singoli dell'album lasciatemi amare certamente ricordiamo Maria i contatti così arriviamo ai saluti finali sì per qualsiasi evento di piazza matrimonio comunione cresime tutto quello che concede le feste vi voglio contattare a Maria Camillo manager personale di Mary Bruno al numero 328 410 55 22 vi aspettiamo numerosi numerosissimi bene allora noi siamo arrivati alla conclusione ci rimane da ascoltare tu non ci tieni per me che la lasceremo chiaramente in diffusione che la andiamo a dedicare a Giada e tutta la famiglia Lino Turso bene li salutiamo Nicola saluta anche tu così poi ci diamo l'appuntamento al prossimo speciale Napoli allora ringrazio tutti i radioscoltatori che avete insomma ci avete sopportato con con ringraziamo voi Mary Bruno Maria Camillo Giuseppe Ruggero quindi ci vediamo alla prossima sicuramente insomma ascoltate Mary Bruno che è una veramente una cantante eccezionale grazie bene grazie Mary un abbraccione in bocca al lupo di tutto vi lasciamo con tu non ci tieni per me i programmi in diretta riprendono ovviamente questo pomeriggio con Alberto dalle 15 alle 18 ciao un abbraccio 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 Grazie a tutti.